Una partita dai due volti, direi quello che non ha funzionato nel primo tempo il gol, nel senso non è arrivato il gol nel momento in cui doveva arrivare, poi tutto è cambiato da questa rete di Tomassini, la reazione non c'è stata. Eravamo un po' timorosi, non so i motivi, adesso li analizzeremo, però eravamo un po' troppo bassi, abbiamo lasciato il pallino in mano al Pineto, quindi secondo me siamo andati un po' in difficoltà. Poi eravamo riusciti ad avere quell'occasione con Alessandro, l'espulsione e poi inizia il secondo tempo, è stato l'episodio del gol e quindi dopo la partita si è complicata perché loro ovviamente sono difesi e non siamo riusciti a fare gol. La sensazione è che manchi specialmente quando si va sotto, poi non è una cosa che capita molto, però manchi il piano B, no? La rosa adesso vedremo, adesso non possiamo fare, non è che possiamo fare altri discorsi, la rosa è questa, dobbiamo fare con questi ragazzi. Oggi obiettivamente è una partita come tante altre, gli episodi sono dati a favore loro, noi abbiamo avuto due o tre occasioni con Cappellini, con altri giocatori che non siamo riusciti a fare gol, e quindi è sulla falsa riga delle altre partite. Poi il piano B, una volta che siamo uno in più abbiamo attaccato tutta la partita, è normale che poi non hanno, cioè praticamente Agliardi non ha preso solo i passaggi indietro, ma quello era normale, è capitato anche noi di giocare in uno in meno e abbiamo fatto la stessa cosa, quindi hanno vinto loro, sono stati più bravi loro.